Molto lentamente riparte la vita nel centro storico di Camerino. Nella piazzetta di San Domenico è stato inaugurato nei giorni scorsi, in centro, uno spazio polifunzionale gestito dall'associazione Io Non Crollo. L'abbiamo voluto chiamare così perché Io Non Crollo vuole lanciare proprio il messaggio di non abbandonare il centro storico attraverso le associazioni che caratterizzavano proprio la vita del centro storico e che avevano la sede proprio nel centro storico. Proprio per lanciare messaggi positivi come incontro, condivisione e comunità, i ragazzi di Io Non Crollo con in testa il presidente Claudio Cingolani, si sono inventati un nuovo logo per questo spazio. E quindi abbiamo i due profili di due persone che si parlano proprio perché dallo scambio pensiamo che possano rinascere nuove idee anche per ripensare il come riabitare e il vivere la nostra città in un futuro. Da queste due figure nasce una parola particolarmente importante. Abbiamo abbandonato resilienza e abbiamo scelto ripartenza. E questa parola sale proprio verso lo skyline di Camerino con i simboli principali che caratterizzano appunto il suo profilo quando lo si osserva insomma dalla pianura in lontananza. E la base sono delle parole, delle parole che sono parole che fanno parte, che compongono una poesia del nostro poeta che è appunto Betti. Quindi da oggi le associazioni affiliate a Io Non Crollo, ma non solo, avranno questo spazio per poter svolgere la propria attività. Pensiamo dopo tutto che la ricostruzione, ancora prima che fisica, quindi di case ed edifici, deve essere la ricostruzione delle persone, della socialità. Lo spazio in centro è provvisorio, infatti è in progetto, abbastanza avanzato, la costruzione di un quartiere delle associazioni che sorgerà nella zona di San Paolo Le Cortine. Sarà un centro polifunzionale dove appunto andremo ad ospitare delle associazioni che ne richiederanno l'uso e dove magari si potrà anche organizzare qualche evento e qualche nuova manifestazione per riportare vita a Camerino, nella nostra cittadina. Il quartiere delle associazioni sarà finanziato con le tante donazioni. Arrivate a Io Non Crollo in questi due anni, donazioni da ogni parte d'Italia e anche dall'estero, come Germania e Lussemburgo, allo stato attuale, sono stati raccolti circa 270 mila euro. Una cifra importante che ci permetterà di realizzare tutti i nostri progetti, primo tra tutti appunto il quartiere delle associazioni. Quindi sicuramente un grazie a loro, un grazie ai nostri volontari che si sono spesi in una situazione di disagio prima di tutto per loro stessi e a tutti quelli che ci vorranno dare una mano in futuro, perché Io Non Crollo è di tutti, è della nostra cittadina ed è della nostra comunità. Quindi il grazie è generale. Grazie a tutti.